610 giorni da campione un'eternità direte no non tiratemi fuori quella stronzata della pandemia che non la voglio sentire non me la bevo nemmeno no anzi l'unica cosa che mi bevo è una birretta in onore alla mia carriera da più longevo wrestler campione che si è esistito nel mondo del wrestling che schifo la birra calda odio la birra calda perché devo aspettare che si raffreddi e sapete me disaster non aspetta e sapete che cosa mi fa incazzare ancora di più dover aspettare che un povero sfigato abbia i coglioni di salire sul ring per affrontarmi no 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 questo non l'accetto anzi facciamo come piace a voi wrestler ufficializziamolo oh mio dio il titolo mwf vaffanculo quale cose le faccio come piacciono a me icw fight forever fight for freedom sabato 19 giugno visto che vi piace fare le cose fatte per bene e portatemi una birretta ghiacciata e poi ci sistemiamo a Grazie a tutti.